Eccoci alla previsione fino alle 24 di oggi. Al nord il cielo si presenterà nebbioso e a tratti piovoso con qualche addensamento sulle Alpi. Al centro Italia il tempo continuerà ad essere incerto e velato con parziali rasserenamenti. C'è rischio di piogge specie sulla Toscana. Infine al sud si avrà un cielo irregolarmente nuvoloso con temporanee schiarite. Le temperature non subiranno variazioni al nord ma scenderanno al centro sud. Meteo 3 con la partecipazione di Tecnocasa.